C'è anche l'incontro Brescia-Lecce, disputato il 27 febbraio scorso, tra le partite all'attenzione degli investigatori impegnati nell'inchiesta sul calcio scommesse. 17 le persone finite in manette nell'ambito dell'inchiesta della procura di Cremona, denominata Las Betta, alla quale ha partecipato anche la squadra mobile di Lecce. Tra le persone assicurate alla giustizia spicca il nome dell'ex capitano dell'Atalanta Cristiano Doni, già squalificato per tre anni e mezzo della giustizia sportiva, ma anche quello di Luigi Sartor, che in passato ha vestito la casacca di Inter, Roma e della Nazionale. All'apice dell'organizzazione per il procuratore di Cremona di Martino c'era Eng Tan Sit, detto Dan, che attraverso una rete di collaboratori a Singapore e nell'Europa dell'Est lavorava per alterare incontri nei campionati italiani e in altri paesi. E sotto la lente della procura è finito anche il match di Serie A dello scorso 27 febbraio tra Brescia e Lecce, conclusosi con un pareggio per 2-2. Su questa partita, su Brescia-Bari del 6 febbraio 2011 e su Napoli-Sampdoria del 30 gennaio, sarebbero arrivate scommesse anomale di qualche milione di euro con vincite spropositate. Per quanto riguarda il match del Lecce, il sospetto è concentrato sull'over, ossia il raggiungimento nel corso della gara di almeno tre gol. Quel match finì 2-2 dopo che il Brescia andò in vantaggio per 2-0. Di questa partita ne parlano Erodiani e Bellavissa, due persone tra gli indagati nella vicenda delle scommesse e delle partite truccate. Dalla loro conversazione telefonica intercettata dagli investigatori emerge la sicurezza nel puntare sull'over. L'Unione Sportiva Lecce sulla vicenda non rilascia dichiarazioni perché, dicono dalla società di Via Templari, non c'è nulla di cui doversi difendere.